Dunque, riprendiamo da qui la nostra costruzione del grafo. Un paio di persone mi hanno fatto notare che questo metodo qua, set edge weight, non veniva trovato in alcuni progetti. Allora, se vi capita è perché la versione 1.0.1 di JGraph-T, che era quella che c'era su questo progetto che abbiamo dato l'anno scorso, non aveva quel metodo, la classe graphs, ma quel metodo veniva implementato, sapete che vi ho detto ieri che c'erano due interfacce sottostanti che erano weighted graph, undirected graph e directed graph e quindi quel metodo set edge weight veniva solo implementato dall'interfaccia weighted graph e quindi non c'era dentro l'interfaccia graph generale, per questo non la trova. Poiché hanno poi cancellato l'interfaccia intermedia, adesso i metodi sono tutti sull'interfaccia grande. Quindi se non trovate questo metodo è semplicemente perché non avete aggiornato la libreria all'ultima versione. Quindi non è un problema più complicato, è solamente un problema di versioni. Con la versione 1.1.0 non dovrebbero essi problemi. Ok, allora ci eravamo lasciati su questo exhibition comuni, che è un metodino che il nostro modello dovrà implementare un metodo privato che dovrà in qualche modo chiedere al DAO di dirgli se, o meglio quante exhibition comuni esistono per la coppia di oggetti considerata. Quindi abbiamo, semplicemente, semplicemente dobbiamo creare la classe DAO, no, arts.mea DAO si chiama, e a questa classe DAO chiamare un metodo int comuni uguale DAO punto count exhibition comuni. a cui passo, ovviamente, questi due oggetti. E poi ritorna questo numero di exhibition comuni. Quindi non fa nient'altro che delegare al DAO questa operazione. il DAO ovviamente è interessato solamente all'ID delle due art exhibition, però noi per abitudine passiamo sempre agli oggetti e mai i singoli interi, i singoli valori, quindi manteniamo l'interfaccia orientata agli oggetti. Il DAO ne avevamo uno qui, nel metodo creagrafo. E questo metodo qua non ha accesso a quella variabile, lassù. No, potremmo benissimo, allora se uno volesse potrebbe benissimo chiamare questo metodo direttamente qua. Tanto la classe DAO c'è già, sì, è solo per tenere separate le cose. E allora per tenere separate le cose sono qui, non ho un oggetto DAO, me lo creo. Tanto tenete conto che il DAO non ha costruttore, quindi non costa niente creare l'oggetto, essenzialmente. Non implica operazioni. Ok, mentre invece questo conto exhibition comuni è un metodo che dobbiamo invece definire. Quindi un metodo qua sotto, public, int, conto exhibition comuni, che abbia la stessa interfaccia del metodo soprastante. Sì, in realtà questo metodo semplicemente incarta un metodo esistente. E cosa farà questo metodo? Chiederà al database quanto vale questo numero. usando questa query con cui abbiamo giocato prima, quella con il count. Copia e incolla, ed aggiusta. Allora, qui bisogna mettere gli spazi alla fine di una riga, ovviamente. Poi al posto del numero di oggetto metto i punti interrogativi, perché sono i parametri di questa interrogazione, di questa query. Mettiamo anche un nome alla colonna, erscnt, perché se no la chiama count di asterisco, per fare il get diventa antipatico. Quindi semplicemente la rinominiamo. Così quando andremo a stare i valori, il nome della colonna è qualcosa di più umano. Allora, questa è la nostra interrogazione e adesso dobbiamo passare al database. Quindi apriamo la connessione e ci facciamo creare prepare statement.st uguale connection.prepare. Questo ovviamente va messo dentro il suo caro try catch. e a questo statement devo impostare due parametri, che sono due numeri interi. Il parametro 1 corrisponde all'art object di partenza getID, l'id del art object di partenza, e il secondo sarà un set int del parametro 2, art object di arrivo punto getID. A questo punto eseguo la query, uguale standing.execute query, che mi restituisce un result set che, a meno di eccezioni, di errori, avrà sempre esattamente una riga. Sarà sempre un count, quindi sarà sempre fatto così, una riga e una colonna. Quindi mi posiziono sulla prima riga, quindi non devo fare cicli while, eccetera, perché non ho un numero variabile di righe. Vado sulla prima riga e estraggo il numero, il conteggio, come il getInt della colonna che si chiama count, cnt. Fatto questo, posso ritornare, quindi chiudere la connessione, non dimentichiamo mai di chiudere la connessione, e poi ritornare, prima del return, di conteggio. punto virgola. Punto virgola. Punto virgola. Ok. Allora, vediamo un po' se il tutto messo insieme funziona oppure scricchiola. quello che possiamo fare, magari per vedere cosa succede, aggiungici una stampa qua dentro, dopo che abbiamo calcolato il peso, e vediamo che cosa stiamo per fare, ok? Quindi andiamo a vedere, system.out.format, quindi ci mettiamo l'arco da un certo vertice a un certo alto vertice, con peso per cento di, a capo, aop.getd, virgola aoa.getd, virgola peso. Così, in questo doppio loop dovremo tutti vedere tutte le combinazioni, una sfidza di zero e probabilmente nel peso, apprezziamo se il programma sta andando avanti o no. Poi ovviamente la commentiamo perché altrimenti genera vagonate di informazioni. e magari testiamo il model con una classe di test senza necessariamente agganciarlo al controller, fare altro lavoro sull'interfaccia, che al momento non ci serve. Quindi una classe test mode con il suo main, che semplicemente crea un nuovo modello e prova a dirgli Ah, new, scusate, new model, ho dimenticato il new. e semplicemente gli chiedo di creare il grafo. E vediamo cosa succede. Quindi proviamo a fare il run di questa classe di test. Un po' troppo silenzioso. E' partito. Ah beh, ci siamo fermati presto, perché non ho messo la password del database. Quindi, fossero tutti così gli errori si risolvono in fretta. In questo caso, comunque, dbconnect. Ok. Errore nella sintassi SQL. Nella linea 1, qui. Dove siamo qua? Il metodo... Modulo.java, 62, arzemia.audio, 56. Eh, questo lo imparo come lezione. Ho modificato la stringa a mano in Java senza fare copia e incolla, ho dimenticato lo spazio. Quindi era giusto in ID SQL, l'ho spostato di qua, l'ho corretta male. Andiamo avanti. Ne stampa uno solo? Ma no, c'è un'altra classe che devo usare, il test model. qua. Ok. Vabbè, qui sta provando tutte le coppie dell'elemento dell'ID zero con tutti gli altri ID. vengono fuori questi pesi uguali a zero. Poi riparte con l'ID numero 1 e va avanti così. Adesso è vero che sta stampando un po' troppa roba, adesso che abbiamo visto che il ciclo va avanti. Magari spostiamo questa print, la mettiamo dentro l'IF così vediamo una stampa solamente quando viene aggiunto l'arco, effettivamente. Quindi questa la mettiamo da qua all'asposto sotto, subito prima dell'add edge. Così cancella tutte le volte in cui il peso è zero, tanto stavo provando. e verifichiamo che almeno qualche volta il peso diventi diverso da zero. È silenzioso ma sta girando, quindi qualcosa sta facendo. Se vado a vedere cosa fa il database, sta lavorando. Vedete che qua ci sono ID SQL che ti fa vedere che cosa sta facendo il database. Quindi abbiamo il nostro select che sta girando. In realtà non è la stessa sempre, sono tante e diverse, però sempre la stessa connessione su cui vengono eseguite queste select. Nel frattempo non ho ancora trovato nulla, però col tempo dovrebbe farcela. Adesso sta facendo 2 con 65.000, 68.000. Se glielo richiedo tra un po'. Eccola qua. 4 con 50.000. Vedete i numerini. Sono scomparsi. Qua, sulla query che sta eseguendo. Quindi se andiamo a chiedere al database cosa stai facendo in questo momento, vediamo che sta lavorando. solo che non siamo abbastanza fortunati di aver visto ancora nessuna coppia. Questo in realtà non... Ma se siamo fortunati tra un po' comparirà qualche cosa, ma sappiamo che questo programma non terminerà mai. Se il grafo fosse più piccolo, sì. Ma con un grafo così non abbiamo speranze. Allora, proviamo a fare la prova, perché dà sempre soddisfazione vederelo terminare, anche se sappiamo che non è completo, facendo lavorare su un grafo più piccolo. Come faccio a farlo lavorare sul grafo più piccolo? Bariamo un attimo nel DAO e dico, caro DAO, quando leggi tutti gli objects, ritornami solamente i primi 100. Quindi avremo un grafo che avrà 100 nodi anziché 85.000 o quanti erano. Quindi tutto il programma lavora pensando che in realtà magari ci fossero solamente 100 elementi, perché la query ne ritorna solamente 100. Poi dovremmo rimetterlo a posto, ovviamente. Adesso effettivamente il programma è già terminato. 100 elementi, 100 al quadrato fa 10.000. 10.000 per un centesimo di secondo sono 100 secondi. No, 10 secondi. Quant'è? Vabbè. 100 secondi. In realtà è molto più veloce, quindi probabilmente le query sono molto più veloci mandate dal database, mandate dal Java che non scritte a mano in IDSQL. in questo caso, prendendo solamente i primi 100 elementi, il grafo ha 100 vertici e 4 archi, con peso 1. Quindi sembra un grafo non particolarmente denso per fargli un complimento. se anziché 100 facciamo 1000. Ho un grafo che è 10 volte più grande e quindi ci metterà un tempo 100 volte maggiore, quindi da qualche secondo a qualche svariati minuti, vediamo già comparire alcuni archi con peso 2. Quindi il programma sta funzionando. Il problema è che sul grafo di questa dimensione questo approccio non è quello migliore. Se il grafo fosse piccolo andrebbe benissimo così. Va avanti. E quali altri approcci possiamo avere? Adesso facciamo una parentesi. Noi sappiamo che adesso abbiamo costruito il grafo, poi l'esercizio ci chiederebbe, scelto un object ID di trovare la componente connessa. Vabbè, questo mettiamolo da parte, sappiamo che lo dovremmo fare. Adesso ci siamo imbattuti con la creazione del grafo. Ci abbiamo ragionato, grafo orientato, non orientato, pesato, non pesato, dove devo toccare. E ci siamo accorti che questo approccio funziona se il grafo è piccolo. Perché funziona se il grafo è piccolo? Perché, per come l'abbiamo impostato, ha una complessità quadratica nel numero di vertici, grazie a questo doppio loop. E all'interno del doppio loop ogni volta faccio una query al database. Una query al database meno di, diciamo, 10.000 secondi per avere, se la query è semplice, non me la cavo. Allora, cosa posso fare? Posso fare due cose. Mantenere questo schema, così com'è, non facendolo acquirre il database. Se io ho queste informazioni sul fatto che ci siano o non ci siano delle exhibition comuni, le memorizzarsi come strutture dati Java, quindi mi leggo Google Exhibition, mi leggo la relazione che mi dice quali oggetti sono in quali exhibition, mi faccio delle mappe, probabilmente, che dato un oggetto mi dà l'elenco dell'exhibition, poi prendo l'altro oggetto, l'altro elenco dell'exhibition, faccio un'intersezione dei due set e vedo cosa c'è. Ah, l'ho già risolto. Poi lo ridico più lentamente. Però se lavoro con le collection dentro Java, probabilmente, se sono bravo, io riesco a dirti se ci sono delle exhibition in comune e quante, non in 10.000 secondi come farebbe il database, ma in due microsecondi. Diciamo 10 microsecondi? Sarò capace di andare mille volte più veloce in un database? Allora, fattore di mille volte più veloce non mi aiuta tantissimo se ho 7 miliardi di operazioni, ma se comincio ad avere... Ah, sì, va bene. Quindi, il primo ragionamento è cercare di rendere il più efficiente possibile il loop più interno, le operazioni che vengono svolte nel loop più interno. E come regola, così, a spannometrica, tutte le volte che faccio una query sono almeno mille volte più lento rispetto a fare la stessa operazione con le strutture dati in Java, se me lo sono fatte. Questo è il motivo per cui non ho chiamato il DAO qui, perché voglio provare implementazioni alternative senza cambiare questo codice, cambiando questa funzione. E questo è un modo. Mi fa guadagnare un fattore costante, perché la comprensibilità è sempre n quadro, però n quadro moltiplicato a mille o n quadro moltiplicato a mille volte mille. Cambia. E se voglio andare oltre? E se voglio andare oltre devo, a monte, proprio non farle queste operazioni. C'è un conto che le operazioni che devo fare le faccio più velocemente possibile, ma se non le faccio sono ancora più veloci. Cioè ogni operazione non fatta impiega meno tempo di un'operazione fatta. questo è banale, ma... E quindi posso per caso scoprire... Cioè cosa fa questo programma? Visto che questo grafo ha una densità così bassa, la maggior parte del tempo calcola zero. Ma io non potrei chiedere al database, dimmi solo quando è diverso da zero. Sto usando un database che è in grado di fare le query, di fare i filtri, fare gli aggruppamenti, fare tutto ciò che voglio, e gli chiedo un numero alla volta. Dimmi se c'è la connessione sì o no, dimmi quante volte c'è questa connessione. Non sto usando il database per la sua potenza. Io potrei dire al database... Prendo la prima query e la ricopio. Faccio un'operazione molto semplice. Allora questo qua, ricordiamoci, ci sono due oggetti e gli chiedevo quali erano le exhibition comuni. Facciamolo magari... Adesso abbiamo finalmente qualche oggetto che sappiamo che compare in almeno due exhibition, quindi... Cerchiamolo. Prima c'era, l'ho visto. Eccolo qua. 821 su 122. Mettiamo l'oro. 821. 822. Così vediamo che faccia ha il risultato. Ok. Questi comparino in queste due exhibition comuni. Cosa capita se io rimuovessi il secondo vincolo? Eh, il database mi darebbe... Ho tolto il secondo end, ok? L'ho commentato. Il database mi dice quali sono tutte le righe di questa join di tabelle in cui, veramente, l'exhibition ID è uguale e il primo oggetto è quello che ho scelto io. Quindi, essenzialmente, mi dà una coppia, una serie di coppie, exhibition oggetto. Quindi, exhibition possono essere diverse. La 778, l'oggetto 821, me l'ha copiato con questi altri oggetti ID. L'oggetto 2508, cioè l'exhibition 2508 in cui compariva 821, e è comparso in quell'exhibition anche 528, 814, 615, 616, eccetera. Cioè, mi dà tutti gli oggetti e tutti gli exhibition che sono co-occorse insieme allo 821. In una qui risola che ci mette anche lei allo stesso tempo. Quindi, a parità di complessità, a parità del lavoro del database, io posso estrargli molte più informazioni. Adesso tutte queste colonne non mi servono. Se io ho l'oggetto 821, mi serve solamente l'ID dell'oggetto 2. No, scusate. Non si chiama... Torno indietro. Cioè, a me cosa... Ripargo la frase. A me cosa serve di questo? Cosa posso ottenere con questo? Posso ottenere in un colpo solo tutti gli archi che escono da 821. Perché questo mi dice che da 821 c'è un arco che va su 822. C'è un arco che va da 1.035. C'è un arco che va su 1.139. eccetera. In realtà, se ordino per oggi il TD, posso anche accorgermi che l'arco che va da 821 a 822 deve aver peso 2. E l'arco che... Ci sono altri casi in cui c'è un elemento che è duplicato? Non le vedo così a occhio, ma non escludo che... Eccoli qua. Anche l'arco tra 821 e 5473 avrà peso 2. perché questo oggetto è comparso sia nell'exhibition 778 che nell'exhibition 2508 insieme alla 821. Allora, io posso chiedere al database senti caro database, riassumi un po', dimmi un attimo quali sono gli oggetti e quante volte compaiono. Group by. Raggruppo per oggetto 2 id, di count exhibition. Quindi io voglio sapere il count di... come si chiamava? id... eo2.exhibition, virgola eo2.objectid, eo2.objectid, group by, eo2.objectid. Ecco cosa mi dice. dato il vertice 821 devi mettere un arco con peso 1 verso 528 un arco con peso 1 verso 568 un arco con peso 2 verso 821 no, quello è se stesso, niente. un arco con peso 2 verso 822 un arco con peso 2 verso 1139 e così via. mi dà già l'elenco degli archi con il loro peso adiacenti a un vertice dato. Io sta roba qua la ripeto una volta per ogni vertice e non faccio 85.000 al quadrato query, ne faccio solo 85.000, una per ogni vertice. ho fatto lavorare di più il database e mi faccio restituire dal database i dati già pronti per poter costruire il pezzo di grafo che mi serve l'arco del grafo che mi serve. tutti i tentativi a vuoto con un grafo che ha una densità 0,0% e quindi la maggior parte dei tentativi che faccio sono a vuoto mi danno 0, io non li faccio più. uso SQL allora quelle query astruse che facevate quando facevate base di dati no? facevate query di 10 righe non 5 come questa che non avevano senso per voi o per dire cosa serve? ecco serve a questo serve farmi restituire i dati che mi servono con la differenza che qui non abbiamo qualcuno che mi dice scrivi un'interrogazione che faccia esattamente questo siamo noi che ce la dobbiamo inventare cos'è che ci potrebbe servire e poi scrivi l'interrogazione corrispondente allora con una cosa di questo genere quanto si semplifica il nostro codice? ovviamente dobbiamo prendere questa cosa qua schiaffarla dentro un DAO questo DAO restituirà una lista di coppie di interi questa roba qua è chiaro che va un pochino elaborata in più l'altra è molto faccio il doppio loop vedo, calcolo il peso, creo l'arco richiede 0 pensiero però se mi serve potenza in più efficienza in più non va bene quindi posso fare un DAO che riceve come parametro non due object ma uno solo e sputa in uscita una lista di object con i relativi pesi prendo questa lista la elaboro per aggiungere gli archi o poi ricordiamoci che dobbiamo rompere la simmetria quindi in realtà a me servono solamente gli oggetti in cui EO2 sia maggiore di EO1 questo maggiore lo posso mettere in Java quando leggo gli archi li aggiungo o non li aggiungo secondo che sia maggiore o no oppure lo posso fare già direttamente nel SQL così dal DataVide non mi arriva mai roba duplicata mi arriverà sempre roba in cui se questo è l'821 il 528 non me lo vedo quindi posso benissimo aggiungere un end EO2 punto object ID maggiore di EO1 punto object ID vedete che parte dal 822 dal 821 il se stesso l'ho tolto mi è venuto gratis e tutti quelli con un valore minore anche sono scomparse ma non sono scomparse per sempre perché quando proverò partendo dal 533 o quant'era quel numero troverò l'821 semplicemente non li trovo due volte allora con questo mi sa che ce la facciamo a finire il nostro grafo questa query la mettiamo dentro un bel metodo di DAO chiamiamolo questo metodo come lo chiamiamo list objects art object and count art a cui passo un art object e mi aspetto che mi restituisca una lista una lista di oggetti che contengono dentro l'ID dell'oggetto e il numero e il peso quindi mi serve un oggetto così che faccia sto lavoro ok? quindi mi serve un oggetto che contenga questi due interi dentro quindi nel model mi creo un oggetto stupido 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 che contenga art object and count e questo contenga semplicemente dentro private int art object id e private int count e poi tutto il resto della menata costruttore setter getter e basta perché questa roba qua la metto in una lista quindi non mi serve l'ashcode lì qua sul two string fino a prova contraria quindi mi sono fatto questo oggettino di comodo che è l'oggetto che è l'oggetto che viene restituito dal DAO e verrà usato dal model per creare grafo e sta roba qua parte con una interrogazione che è questa che è questa col count il group by eccetera dove ci mettiamo gli spazi al posto dell'821 ci mettiamo un punto interrogativo e poi c'è il solito lavoro connection db connect appunto get connection prepare statement uguale con.prepare ci mettiamo il try catch impostiamo il valore del parametro dell'object id numero 1 stermin.setint parametro 1 valore artobject.gettd e eseguiamo la query result set uguale stermin.execute query adesso estraiamo i valori di questa query e costruiamo questa lista di oggetti allora questa lista di oggetti conviene crearla prima list artobject.encount result uguale newArrayList punte virgola e quindi qui ogni volta che trovo qualche cosa while result.next itero sui risultati aggiungendo la lista result.add new artobject encount come artobject.id e result set.gettd no scusate getint della colonna che si chiama maledetto maledetto ers cnt e questo è ers id spazio quindi il primo parametro è l'id e il secondo parametro il secondo parametro il secondo parametro è il count e quindi il result set .getint int cnt allora cosa faccio? prendo l'id e il count della riga creo oggetto artobject.count e lo aggiungo al risultato perfetto e quando ho finito questo while chiudo la connessione e ritorno alla lista se qualcosa va storto invece esco con un'eccezione è lo stesso metodo che avevamo per ottenere l'elenco di tutti i risultati di tutti gli object solo che anziché creare una lista di oggetti che sono diciamo così pari pari uguali a quelli all'informazione del database è un oggetto nostro che contiene già l'informazione già elaborata e cosa me ne faccio di questo? vabbè nel model dove andiamo? model, 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 model qua uso un approccio completamente diverso per raggiungere gli archi quindi questa parte qua se vogliamo la commentiamo versione 1 poco efficiente che finisce qua che finisce qua e proviamo a ragionare in modo più efficiente quindi for art object a o due punti this.art object a questo punto faccio un ciclo solo dato un oggetto quali sono tutti gli oggetti a lui collegati? allora lo chiedo al DAO lista di art object and count connessi uguale da o punto get tau punto list art object and count partendo da questo art object di partenza cos'hai che ti lamenti? no perché sbagliato togli qua così quindi date tutti gli oggetti uno per uno faccio quella query che mi dà non un risultato ma un elenco di risultati adesso per ciascun risultato di questo elenco creo un arco quindi avrò un secondo ciclo ovviamente che adesso si va a smazzare il contenuto di questa lista for art object and count c di questa lista cosa faccio? aggiungo un arco aggiungo un arco ad edge ad edge del grafo sul grafo dis.graph partendo dal vertice a o arrivando al vertice c punto get art object d col peso c punto get peso get count alt poi non funziona eh attenzione che c'è ancora un errore l'idea è questa per ogni elemento della lista aggiungo un arco di cui so già il vertice di partenza perché è questo il vertice d'arrivo che è quello che mi dice la lista col peso collegato quindi questo c c questo oggetto c altro non è che la singola riga di questa tabella no? che ha l'id e il peso e il count adesso non va ancora perché qui vedi che mi da errore perché l'add edge si aspetta due vertex quindi questo è già un vertex è già un art object ma questo è solamente un int quindi dovrei costruire dovrei ritornare l'oggetto art object che ha questo id eh lo posso fare in due modi o mi scandisco la lista oppure mi crea un oggetto finto che però dal punto di vista dell'hash code sia uguale a quello esistente cioè a me alla fine serve identificare un vertice che sia equal al vertice verso cui voglio andare quindi potrei diciamo art object destinazione uguale new art object in cui passo l'obget id che ce l'ho e tutto il resto null sopprimete la nausea quello che state vedendo perché se non si fa ma a volte si fa in realtà erano tutte stringhe queste no? ah c'è un int uno due tre il quarto è un int zero e poi c'è ancora un altro davanti uno due tre quattro cinque e poi c'è un int uno due tre e vedi che gli piace ho creato quello che in gergo si chiama un oggetto debole cioè inizializzato solo per un po' per un pezzo il pezzo che mi serve e che so che lui usa allora lui cercherà di creare un arco tra questi due vertici ovviamente l'arco lo collega tra i vertici che che appartengono al grafo quindi io dentro il grafo ho già fatto un ad vertex del nodo completo con tutti i dati quindi mi fornisco un nodo che abbia lo stesso hashcode che sia equals a quello e l'equals lavora solamente sull'id quindi è un modo veloce per chiedere a lui di usare la mappa che ha internamente al grafo per trovare l'oggetto se non vi piacciono questi trucchi vi fate una mappa cioè nel momento in cui leggete questa lista di oggetti in parallelo vi fate una mappa che dato l'int dato l'id vi da l'oggetto quindi quando l'oggetto vi costa poco farla quando sei qua semplicemente fai un ciclo e aggiungi nella mappa put dato l'id l'oggetto dato l'id l'oggetto e così hai un metodo veloce istantaneo nanosecondi dato l'id per avere l'oggetto cerchiamo sempre di resistere la tentazione c'è l'id devo trovare l'oggetto scandisco la lista scandire la lista no buono paghi in efficienza un costo odn ok noi l'abbiamo fatto cercando di ingannare un pochino il grafo ma si fa insomma intanto questo oggetto qua non va da nessuna parte viene da nessun ambiente usato nella badge fatto direi vediamo un po' aggiungiamoci una print quindi abbiamo a.gtd dest.gtd e peso era questo e vediamo cosa crea crea un'eccezione ovviamente vabbè certo allora cosa è successo qua che lui mi dice guarda che hai cercato di fare un arco verso un vertice che non esiste questo è l'add edge quando dice no such vertex in graph hai cercato di aggiungere un art object con object di 1413 perché non c'è? ma perché abbiamo messo quel limit 1000 prima perché non eravamo sicuro di farcela e allora andiamo a rimettere a posto il dao e la quiri seconda non serve a quel limite quindi ti restituisce tutti quindi togliamo quel limite di quando non eravamo abbastanza bravi è un'altra velocità eh poi si pianta ma per qualche motivo e questo non lo so al volo non lo vedo così semplice da capire 8368 perché ne eravamo messi tanti e poi non riesci più a mettere questi non lo so questo me lo debalgo a casa perché non capisco perché ma deve essersi qualcosina che mi è sfuggito da qualche parte però abbiamo capito cosa abbiamo fatto qua no? tutti i vertici vedete gli archi che partono da 5473 verso qualunque altro tipo di oggetto fino a quando non cambio il primo sono risultati da un'unica quiri quindi il numero di quiri che sto facendo che sono più o meno tutte della stessa complessità di quella di prima questa è un pochino più complicata ma non so se non è 10 sono 15.000 secondi ma anziché farne 7 miliardi ne faccio 50.000 anzi la metà perché no 50.000 e quindi il tempo di esecuzione a parte questa eccezione alla fine che adesso cerco di capire perché è sensibilmente inferiore non abbiamo finito nel senso che si potrebbe addirittura fare ancora un passo avanti non è detto che convenga è solo per citarlo io posso ancora da qui andare avanti e dire ma io questa quiri la devo fare 50.000 volte una per ogni oggetto di partenza ma non posso già chiedere al database di dirmi lui l'oggetto di partenza e l'oggetto di arrivo per tutti i possibili oggetti cioè se io questa cosa qui la generalizzo ancora un pochino non vincolo l'oggetto di partenza non lo vincolo più ma lo uso come criterio di aggruppamento quindi ripeto lo stesso ragionamento che ho fatto prima però sull'oggetto 1 questa volta non mi viene questo obgetti di obgetti di count 1 46 1 219 già col segno minore quindi sono già è già rotto la simmetria sono 400.000 archi che sono tutti quelli da aggiungere al database è già questo il grafo è già questo il grafo con una quiri sola chiaro sta quiri non ci mette 10 millisecondi ci mette mille millisecondi un secondo, un secondo e mezzo ma ne faccio una sola e poi ho finito quindi c'è il terzo modo che è faccio lavorare solo il database e mi faccio già dare il database a questo ora si può dire mi faccio cagare del database già direttamente ciò che mi serve per completare il grafo oppure faccio una quiri per ogni vertice e mi faccio dare da quella quiri l'elenco già di tutti i vertici adiacenti oppure ancora faccio una quiri per ogni arco possibile che è la cosa più semplice di chi c'è meno da pensare e nel caso in cui il grafo non sia particolarmente grande va benissimo non è che dobbiamo complicarci la vita solo perché se il grafo è da 50 nodi va benissimo se il grafo è da 50.000 nodi ci siamo accorti che non va così bene quindi dobbiamo un po' imparare a gestrarcela questa cosa dove la risolve la complessità nelle strutture dati, nel codice, nel database e ogni problema avrà una soluzione sono più bravo, più ginnico in SQL sono più ginnico in collection, in set e map e allora lavorerò più di qua oppure di là però due conti brutali brutali sul fatto che il primo approccio non funzionava li abbiamo fatti ben prima di finire di implementarlo abbiamo detto no, 7 miliardi non c'è storia e quindi poi ci studieremo quindi in una sede diciamo così di esame o di un esercizio quella strada lì non la provate neppure perché sapete già che non ne uscite quindi però bisogna aprirsi a pensare alle varie possibilità questa qua è banale da implementare a questo punto adesso ID non ce l'ha fatta più non mi sopporta più e quindi interrompiamo qua allora io vi controllo questo errore poi pubblico questa versione diciamo così corretta e aggiornata così la potete poi anche verificare con più calma buona serata grazie grazie grazie